Benvenuti, buon sabato. Siamo giunti all'appuntamento ormai, fatemi verificare, numero 8 di questa rubrica dedicata alla privacy e alla protezione dei dati personali. Partiamo subito perché è stata una settimana ricca di notizie. In particolar modo faccio riferimento alla newsletter dell'autorità Garanta che è stata pubblicata il 10 di aprile e che contiene molti provvedimenti interessanti. Oggi ne analizzeremo in particolare 4, poi vedremo, vi spiego anche un trucco per fare questa attività in maniera veloce, analisi documentali e quant'altro. Quindi, partiamo. Le raccomandazioni sono sempre le solite. Vi ricordo che esiste il forum della community Omnivis dove potete trovare tutte le infografiche dedicate al tema, i miei commenti e quant'altro. Oggi ve la voglio mostrare proprio perché dovete utilizzarla. L'invito è sempre quello. Voi vi collegate alla community di Omnivis, cliccate sulla sezione che riguarda la mia rubrica, quindi sezione dedicata al tema della privacy, riservatezza e quant'altro. E come potrete vedere, ogni volta che io vado a fare una rubrica, vado a fare poi la relativa sezione. Quindi c'è la 1, c'è la 2, c'è la 3, questa è l'ultima. Trovate dentro il link al Feedly, che è, ve lo ricordo sempre, l'intelligenza artificiale tramite la quale io faccio il recap delle notizie. Trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter Gladiatori Digitali e vi invito sempre a farlo perché a fine aprile la community sarà divisa in due. Ci sarà una sezione premium con contenuti un pochino più impattanti, ecco, utilizziamo questo termine, e poi ci sarà una parte ad accesso libero che continuerà a essere popolata da informative, newsletter e quant'altro. Trovate poi sempre anche i riferimenti ai documenti, quindi li potete scaricare. Utilizzatela, utilizzatela, perché vi lascio qui anche spesso le infografiche e tutti i miei commenti. Allora, partiamo. Partiamo, questo è il mio Feedly. Come vedete, la dashboard delle notizie di oggi contiene poi di fatto solo tre notizie, ma vi renderete conto che poi, soprattutto quando andremo a parlare della newsletter, i provvedimenti toccati e temi toccati sono stati tanti e importanti. Quindi parleremo di varie cose, voglio mostrarvele oggi. C'è poi sempre un cenno al mondo della cyber security e vedremo in particolare la notizia che è uscita sulla fonte Hacker Journal, che io di frequente consulto perché è molto utile. E dopodiché notizie un po' dall'ambito Europa in generale. Ok, in ogni caso, qui sulla sinistra voi trovate queste che sono le mie fonti di notizie. Se cliccate su uno dei siti che io per esempio scelgo, per esempio facciamo una prova. Ecco, Cyber Security Italia, 54 notizie. Vedete che, questa è di due ore fa, in diretta avete proprio le notizie mano a mano che compaiono, che di fatto vengono pubblicate. Quindi potete fare questa attività e andare a approfondire i temi che tratto, ma anche proprio andare a leggere notizie inerenti che possono essere di interesse. Ok, allora, newsletter del 10 aprile 2024. Clicchiamo, ci si apre il sito dell'autorità garante. Il titolo è abbastanza chiaro. Attacco hacker ai sistemi informatici della regione Lazio. Sanzioni del garante. Quindi arrivano finalmente queste sanzioni dell'attacco hacker ormai risalente, non so se vi ricordate, al 2021. Poi, dossier sanitario, il garante privacy sanziona un ASL. Poi, pubblica amministrazione, trasparenza. Più trasparenza sui siti. Vedremo che il garante ha formulato un parere favorevole agli schemi che sono stati proposti da ANAC, ma ci entreremo nel dettaglio fra poco. E poi, intercettazioni della procura, ok, dal garante al database nazionale. Non vedremo nel dettaglio tutte le notizie, per questioni ovvie di tempo. Ne ho selezionate in particolare due, che vedremo oggi, che mi sono sembrate un po' interessanti. Attacco hacker ai sistemi informatici della regione Lazio. E poi, la questione della trasparenza ai siti della pubblica amministrazione. Perché è un tema sempre caldissimo. Ora, l'attacco hacker ai sistemi informatici della regione Lazio è una notiziona. Nel senso che, quello che è successo, per farla breve, già dal titolo si capisce abbastanza, nel 2021 la regione Lazio subisce un attacco hacker importante. Talmente importante che subì, diciamo, una sfiltrazione di dati, fra l'altro dati sanitari, quindi dati particolari, notevole, appartenente a un numero di interessati importante. La stessa regione Lazio notificò, insomma, all'autorità garante l'avvenuto data breach, così come fece Lazio Crea, e quindi dal di là si aprì tutta un'istruttoria che nei provvedimenti che vi riporto nelle fonti, voi potrete andare ad analizzare. In particolar modo, voi trovate il provvedimento del 21 marzo 2024, che è quello combinato alla ASL Roma, che è poi, fra l'altro, quella che si è beccata la sanzione in assoluto più bassa, perché parliamo, se non erro, di 10.000, esatto, 10.000 euro, tra poco vedremo anche perché. Trovate il provvedimento alla regione Lazio, che è stato quello intermedio, sono, fra l'altro, vi invito a fare queste osservazioni, provvedimenti lunghi, quindi c'è un bel po' da leggere. Regione Lazio, che ha ricevuto una sanzione da 120.000, esatto, 120.000 euro, sanzione amministrativa pecuniaria, e la più alta, poi, in assoluto, è quella di Lazio Crea, che ha avuto una sanzione, se non vado errato, da 270.000, vediamo un attimo se è vero, ricordo male, 271.000 euro a titolo di sanzione amministrativa. Ora, per fare un'attività di brainstorming, come quella che oggi farò io per voi, chiaramente, prima cosa si faceva? Si scaricavano questi documenti sul computer, e con tanta pazienza si andavano a leggere, sottolineando, analizzando e quant'altro. Ora, io avevo necessità di portarvi un contenuto, e soprattutto in termini di tempo, non possiamo, diciamo, fare una diretta che dura delle ore, quindi volevo qualcosa che mi aiutasse a fare questa attività di brainstorming documentale in maniera veloce, semplice e quant'altro. Quindi, cosa avrò mai fatto? Ormai se mi seguite lo sapete, ho utilizzato l'intelligenza artificiale. Quindi, con ChatGBT, ho caricato ChatGBT PS, la versione 4, quindi la versione turbo, quella a pagamento, che è quella che consente l'upload di documenti, ok, li ho caricati tutti e tre, ASL Roma 3, Lazio Crea e Regione Lazio, e ho iniziato a fare con ChatGBT un'attività di brainstorming. Gli ho fatto delle domande, chiedendogli, leggi e analizza i documenti, riassumi le parti più importanti, spiegami in breve che cosa è successo, dammi i concetti principali e quant'altro. Un'operazione che mi ha portato via un'oretta di tempo, ma pensate che se avessi dovuto leggere veramente tutti i documenti integralmente, probabilmente mi ci sarebbe voluta almeno una mezza giornata, perché chiaramente bisogna comprenderli, metabolizzarli, riassumerli, schematizzarli e quant'altro. Quindi con l'intelligenza artificiale io ho massimizzato il tempo a disposizione e ho fatto questa attività. Il risultato è questo documento che vado adesso a condividervi, vediamo se riesco a trovarlo in maniera veloce, che praticamente ho fatto un riassunto, eccolo qui, ho riportato in Word in quattro pagine tutto quello che da quelle tre fonti ho ricavato. Quindi inizio, esito, il principio di GDPR violato, le parole chiave, il contenuto dei provvedimenti, adesso andiamo a vedere insieme. Poi ho fatto delle domande, no, che ho riportato qui, immaginando di essere un po' nei vostri panni, quindi una persona normale, un cittadino, a digiuno di nozioni tecniche, giuridiche e quant'altro, come può da solo fare un'analisi documentale di questo tipo? Quindi mi sono un po' immedesimata e ho fatto le stesse domande che potrebbe fare una persona comune. Quindi quello che è successo, adesso sfruttiamo il lavoro, questo aiuto che ci ha fornito CiaCpt per fare questa attività. 2021 abbiamo visto parte, attacco hacker e sistemi informatici della Regione Lazio, l'esito è dell'altro ieri, 21 marzo 2024, i documenti di riferimento sono questi che sono gli stessi pubblicati sul sito e che ovviamente rimandano ciascuno per il proprio link ai provvedimenti dell'autorità. Parole chiave, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale, quale sono le parole chiave che secondo te dovrebbero essere estrapolate da questi documenti. E lui infatti mi dice sicurezza, ovviamente, perché parliamo di un attacco hacker, notifica, perché c'è stata la problematica della notifica, il ritardo da parte di ASL Roma 3 all'autorità garante, riservatezza e integrità, che sono i due principi violati, cioè l'articolo 5,1 lettera F del GDPR, il principio di integrità e riservatezza, che sono i principi cardine che sono legati più degli altri alla sicurezza legata al trattamento dei dati. Quindi bisogna garantire sempre che i dati trattati siano integri, siano mantenuti riservati, per evitare quella famosa perdita in termini proprio di disponibilità, integrità e riservatezza, che va a concretizzare che cosa? Il data breach. Infatti, se mi andate a leggere gli articoli 33 e seguenti, troverete poi tutti questi riscontri. 21 marzo, sono stati emessi tre provvedimenti da parte del garante riguardanti Regione Lazio, Lazio Crea e Azienda Sanitaria Locale Roma 3, a seguito di violazioni nel trattamento dei dati personali. Regione Lazio, stanzionata con una multa da 120.000 euro per violazioni relative al trattamento illecito di dati personali, inclusa, badate bene, mancata adozione di misure adeguate a garantire la sicurezza e la protezione dei dati contro trattamenti non autorizzati o illeciti. Sanzione numero due, quella più alta, Lazio Crea, questa società interamente partecipata dalla Regione Lazio, responsabile del trattamento dei dati, quindi aveva ricevuto da parte della Regione Lazio e di Asle Roma 3 che è una nomina ex articolo 28, no? Le famose nomine dedicate proprio al responsabile esterno, viene sanzionata con una multa da 271.000 euro per un trattamento illecito di dati personali, perché ha violato i principi chiave del GDPR come l'integrità e la riservatezza, lo abbiamo visto prima, nonché per non non aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate e garantire il livello di rischio. Sanzione all'Asle Roma 3 è stata multata con 10.000 euro per non aver adottato anche lei misure tecniche e organizzative adeguate e in più ha violato l'articolo 33 paragrafo 1.5 del GDPR che se volessimo poi fare la prova del 9 lo andiamo a fare subito. Mi raccomando tenete sempre a disposizione questo link che è il regolamento europeo comodo che potete tenere sempre a portata di mano quando fate queste analisi sicurezza dei dati personali capo quarto sezione seconda l'articolo 33 è l'articolo dedicato al data breach quindi ha violato in pieno l'articolo 33 facendo una notifica in ritardo quindi non ha rispettato le 72 ore di tempo le modalità e quant'altro e quindi il garante ha fatto una sanzione da 10.000 euro dopodiché gli ho chiesto perché Lazio Crea il responsabile esterno è stato punito di più rispetto alla regione Lazio e alla stessa ASL Roma 3 e mi dà una risposta di tutto rispetto Lazio Crea è stata punita con una multa significativamente più alta per diverse ragioni principalmente legate proprio alla natura e alla gravità delle violazioni al numero di soggetti interessati e al tipo di dati personali coinvolti provo ad ingrandire un po' perché mi ero accorta l'altra volta eccoci qua ci dà poi i motivi chiave ruolo centrale nella gestione dei dati Lazio Crea agendo come responsabile del trattamento per conto della regione Lazio aveva un ruolo centrale nella gestione dei sistemi informativi e nel trattamento dei dati questo ruolo implicava una responsabilità maggiore nella protezione dei dati poi un motivo riguardante la natura e la gravità della violazione la società è stata ritenuta responsabile per aver totalmente non applicato ecco le misure tecniche e organizzative adeguate in più sono stati coinvolti dati di natura sensibile quindi dati personali particolari inclusi dati relativi alla salute dei cittadini la violazione di questi dati aggiunge anche il commento ciao GBT ci dice la violazione di questi dati è considerata particolarmente grave dato l'alto rischio di danni significativi per individui coinvolti poi c'è stata una motivazione che ha riguardato il volume dei dati e il numero degli interessati perché vi dicevo all'inizio questi dati appartenevano a un numero alto di interessati quindi anche data la portata dei servizi gestiti da Lazio Crea parliamo del responsabile dei servizi informatici con delega con nomina quindi un importante ruolo un'importante responsabilità e poi mancato rispetto del GDPR dei principi delle misure e quant'altro questi fattori combinati con le responsabilità dirette e aggiungere io contrattuali di Lazio Crea nella gestione dei dati e nelle relative violazioni hanno portato a una sanzione più elevata rispetto alle altre entità coinvolte riflettendo gravità delle violazioni il ruolo centrale di Lazio Crea la regione Lazio cosa c'entra in tutto ciò la regione Lazio è stata coinvolta perché la società agiva come titolare del trattamento di Lazio Crea la società che è stata punita con la multa più elevata ci dice per farci capire e questo per quale motivo per non aver verificato in qualità di titolare del trattamento che Lazio Crea adottasse tutte le misure necessarie a garantire la protezione dei dati guardate qui che bella definizione che utilizza chat gbt la regione Lazio titolare del trattamento ha la responsabilità di supervisionare che fossero in atto le misure tecniche e organizzative qui casca l'asino nel senso che e faccio un po' una excursus pratico per farvi capire quando io vado a fare queste nomine con i miei fornitori e quindi vado a formulare sottoscrivere degli articoli degli accordi ex articolo 28 devo stare attentissimo a quello che vado a scrivere all'interno di quegli accordi perché dopo la parte iniziale dove vado a scrivere qual è il servizio affidato in outsourcing quali sono i dati trattati quali sono i trattamenti devo dare delle istruzioni al mio fornitore dicendogli mi raccomando devi fare in modo che i dati trattati nome per conto mio titolare del trattamento siano trattati in maniera compliant al GDPR quindi dagli tutta una serie di prescrizioni perché noi abbiamo come titolari questa responsabilità di supervisione quindi questo è molto importante perché poi vedete in fase patologica si va a discutere proprio su questi aspetti quindi la regione Lazio aveva la responsabilità ultima di controllo di monitoring e l'attacco informatico e le violazioni dei dati hanno avuto un impatto diretto sui servizi offerti dalla regione Lazio quindi non poteva la stessa non essere sanzionata in misura leggermente inferiore rispetto al responsabile esterno ma comunque sanzionata cosa c'entra l'ASL Roma 3 nella vicenda? ebbene anche lei aveva nominato Lazio Crea responsabile esterno perché era stata coinvolta proprio perché i dati contenuti nei server di ASL Roma 3 sono stati coinvolti nell'attacco informatico generale che ha coinvolto Lazio Crea e la regione Lazio e ci dice ulteriormente l'intelligenza artificiale ricavando le informazioni ovviamente dai provvedimenti che abbiamo visto prima il motivo è che come ente sanitario detiene e gestisce dati sanitari sensibili la gestione di questi dati in parte era affidata all'Azio Crea che fungeva da responsabile del trattamento quindi l'attacco informatico ha avuto conseguenze anche sull'operatività dell'ASL questo è il motivo principale fra l'altro motivo non banale l'ASL non ha notificato tempestivamente il data breach come richiesto da GDPR l'articolo 33 che abbiamo visto prima e questo ha portato a una sanzione pecuniaria perché la notifica di queste violazioni è obbligatoria quando il data breach presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche quindi capite che in un batter baleno abbiamo fatto un'analisi documentale molto importante ok gli ho chiesto poi alla fine il principio GDPR più violato dai rispettivi attori qual è? e lui mi aveva già risposto integrità e riservatezza e mi spiega poi che violazioni specifiche includono mancata adozione delle misure di sicurezza adeguate una risposta inadeguata agli incidenti quindi probabilmente delle policy data breach dei disciplinari fatti non bene non performanti anche incapacità totale di prevenire accessi non autorizzati quindi l'attacco informatico che diciamo si è perpetrato di fatto quindi ecco se volessimo ricavare un po' un principio potremmo dire che la cyber resilience di Lazio Crea della regione Lazio e dell'Asl non era proprio a livelli eccezionali questa è un po' la morale di fondo da tutto questo che cosa ne possiamo ricavare? ovviamente quando noi andiamo ad analizzare provvedimenti così importanti dobbiamo portare a casa delle regoline di condotta perché potremmo un domani speriamo di no ma potremmo noi un domani come titolari trovarci nei panni degli attori che sono stati sanzionati e allora io ho ricavato questa checklist delle attività che potete utilizzare per andare poi a fare proprio i rendiconti in maniera autonoma come autovalutazione all'interno delle vostre organizzazioni cioè chiedervi ho implementato misure di sicurezza adeguate che vuol dire misure tecniche informatiche e organizzative cartacee barra analogiche adeguate appropriate l'ho fatto e allora vado a flegare sì l'ho fatto ho fatto formazione al mio personale se ho dei dipendenti e anche qui vado a verificare ho un piano di risposta per gli incidenti e di ripristino performante aggiornato sono in grado di garantire che entro 72 ore dalla scoperta di un data breach riesco effettivamente a fare una potenziale notifica all'autorità garante e una comunicazione agli interessati l'ho compreso nella policy l'ho diffusa al personale quindi tutte queste cose le devo andare a verificare aggiorno regolarmente le misure di sicurezza le vado a avvagliare le vado a verificare le nomine 28 le ho fatte sono da aggiornare se lavoro con partner o con fornitori soprattutto come vi dicevo prima la parte che riguarda le istruzioni la devo guardare bene 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 per capire magari e dare come indicazione al mio fornitore di verificare costantemente l'applicazione a sua volta delle misure di sicurezza adeguate e poi verificare fare audit di monitoraggio continui per garantire che tutte le parti sopra siano costantemente aggiornate rendi contate e quant'altro voi ogni qualvolta leggete un provvedimento se vi abituate a fare questo schemino e anche qui piccolo spoiler potete farlo utilizzando l'intelligenza artificiale magari se avete piacere di vedere qualche video ve lo porto sul mio canale qualche contenuto di questo tipo per farvi vedere come fare questa attività ma lo potete fare ci vogliono veramente due secondi e fra l'altro anche con la versione 3.5 quella completamente gratuita fate questa attività la portate a casa nelle vostre organizzazioni e il vostro punteggio di accountability migliora notevolmente ok prima notizia quindi newsletter del garante dimenticavo un'altra cosa volevo dirvi vi dicevo vi ho promesso all'inizio ne guardiamo due ecco un'altra molto interessante è questa PA siti e trasparenza il garante chiede più tutele per i dati personali allora il garante esprime parere favolevole agli schemi presentati da ANAC quei 14 schemi standard che mirano ad avere una pubblicazione più possibile guidata ed uniforme dei documenti che vanno a finire in amministrazione trasparente quindi per chi non lo sapesse le pubbliche amministrazioni sono tenute ai sensi di questa normativa il decreto 33 2013 a pubblicare dei documenti in una sezione del sito che viene proprio chiamata amministrazione trasparente dove il cittadino sulla base dei principi di trasparenza buon andamento correttezza della pubblica amministrazione eccetera eccetera pubblica e va a verificare che l'amministrazione si è comportata insomma in maniera soddisfacente legittima rispondendo ai requisiti di legge senza violazione dei principi dei doveri che le competono e quant'altro ovviamente ci sono degli strumenti degli istituti che permettono al cittadino di tutelare cioè di garantire questa trasparenza l'accesso civico generalizzato l'accesso civico tanti strumenti ok non è questa la sede per approfondirli ma un po' la morale è quella la problematica che riguarda un po' la pubblicazione dei documenti in amministrazione trasparente è sempre quella del come faccio a bilanciare la finalità di trasparenza imposta dalla legge quindi base giuridica 33 2013 con la privacy quindi con la necessità di andare a proteggere i dati personali delle persone degli interessati dei dipendenti e quant'altro ci sono delle modalità per operare questo corretto bilanciamento la prima più ovvia e scontata devo conoscere la normativa quindi devo andare a leggere il 33 2013 e capire che cosa mi chiede di pubblicare ma lì non troverò tutte le risposte perché comunque è un testo di legge è scritto in un certo modo molte norme vanno interpretate e via dicendo e qui mi viene in aiuto l'autorità nazionale anticorruzione l'ANAC che fa proprio questa operazione qui cioè fa degli orientamenti quindi dà degli orientamenti delle linee guida che aiutano poi le amministrazioni a capire come fare queste pubblicazioni io ho scaricato il parere che voglio adesso mostrarvi chiudiamo qualche finestra per non fare confusione allora vediamo se lo trovo qui vi ho spoilerato subito una cosa mannaggia allora parere schema ANAC eccolo qua il garante fa questo parere ovviamente c'è stata una consultazione pubblica riferita a quegli schemi un po' come è successo qualche settimana fa con i metadati vi ricordate quando ne abbiamo parlato quindi si è aperta una consultazione ma alla fine vi ho segnalato nel provvedimento quello che un po' merita di essere un attimo attenzionato il garante dice ricordato che anche se ANAC ha rappresentato che i citati schemi dovrebbero essere funzionali anche ai fini della famosa piattaforma unica della trasparenza che prima o poi si andrà a realizzare non si sa ancora quando e come che allo stato attuale non è stata ancora istituita né disciplinata come piattaforma per adempiere tutti gli obblighi di trasparenza online il parere di questa autorità è reso unicamente sul contenuto degli schemi quindi qui il garante sta dicendo ti do parere favolevare ma riguarda gli schemi non riguardo ad una ipotetica forse futura piattaforma unica per la trasparenza queste linee guida diciamo richiamano delle osservazioni che il garante aveva già fatto in precedenza che sono state recepite dalla dalla ANAC e ne aggiungono delle altre quindi per esempio limitare la pubblicazione dei dati di contatto cui il cittadino può rivolgersi quando si vanno a inserire tutte quelle caselle di posta degli uffici dei dipendenti e quant'altro non c'è bisogno di mettere tutte le informazioni bastano poche informazioni pochi pochi contatti una mail una casella di posta e quant'altro qui ci spiega ci da o meglio da ANAC questo parere oppure sui concorsi pubblici cosa pubblicare cosa non pubblicare qui ci dice per quanto riguarda i soggetti vincitori dei concorsi pubblici e gli idonei i vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria pubblicare nome e cognome e data di nascita solo in caso di omonimia quindi non come regola valida sempre quindi escludendo informazioni non necessarie come il luogo di nascita il codice fiscale la residenza eccetera 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 fa tutti questi esempi molto utile vi faccio questa anticipazione scaricate questo provvedimento leggetelo perché è molto interessante per facilitare un po' l'operato delle pubbliche amministrazioni ho preparato e sono in lavorazione delle linee guida che sono queste voglio mostrarvele solo proprio velocissimamente per farvi vedere un po' una preview sono in fase di lavorazione perché voglio adesso andare ad inserire questo parere dell'autorità garante e le osservazioni che l'autorità garante ha fatto ad ANAC quindi le andrò ad aggiornare nelle prossime settimane e le pubblicherò e saranno messe a disposizione soltanto per gli iscritti alla community di gladiatori digitali quindi la promessa che voglio farvi l'impegno che voglio prendermi con voi è quello di arrivare da qui a fine aprile a pubblicare queste linee guida contengono un po' una spiegazione di quelle che sono le fonti legislative le definizioni da ricordare i principi privacy da andare a rispettare regole generali qualche infografica che vado ogni tanto qualcuno ve l'ho messa a disposizione che io utilizzo per fare un po' di didattica e formazione su alcuni temi e qualche regola che va per casistica le trovate a disposizione su gladiatori digitali gli iscritti le riceveranno con l'ultima newsletter penso di fine aprile che è quella con la quale chiuderò le iscrizioni totalmente gratuite e andrò a dividere la parte premium con la parte diciamo open e queste ho pensato di regalarle un po' a tutti chiaramente utili se lavorate in pubblica amministrazione e quindi ecco vi segnalo questa cosa stay tuned su queste linee guida perché vi pubblicherò poi aggiornamenti in merito bene questa era la newsletter del garante quindi importante come notizia sul campo cyber security vi segnalo come vi dicevo questa notizia di hacker journal entriamo dentro allora questo sito è molto interessante perché settimanalmente fa una sorta di recap degli attacchi informatici più diffusi phishing malware eccetera eccetera con relativa spiegazione ce n'è uno che mi ha colpito più di tutti che è questo attacco qui che avviene con QR code perché la tattica è il modus operandi sempre il medesimo l'immalintenzionato l'hacker con un tentativo di phishing quindi con una mail o con un sms che contiene una call to action quindi un click su un link scaricare un documento o come in questo caso andare a scansionare col telefonino un QR code carpisce dei dati personali dall'utente che va a immettere in un sito in un modulo fittizio ma ovviamente ben costruito una serie di informazioni credenziali password dati e quant'altro riesce a scaricare tramite attivazione di una backdoor sul sito sul computer del poveraccio mi viene da dire un software malevolo un malware e va a sfiltrare e crittografare nella peggiore delle ipotesi delle informazioni questa mail che sta arrivando in questi giorni fra l'altro il mittente dicono essere agenzia delle entrate ma ovviamente non è l'agenzia delle entrate che scrive ma tutto farebbe diciamo desumere che sia l'agenzia delle entrate a scrivere con tanto di logo con tanto di riferimento pagina web per costruita e quant'altro quindi in questo articolo trovate anche altri esempi per esempio guardate questa truffa fiscale rimborso in arrivo diffusa in Australia ma arrivata anche in Italia perché ho avuto anche io qualche segnalazione da un ipotetico rimborso quindi sempre phishing ipotetico rimborso vi trovate un modulino da compilare se per fretta o sbadatamente inserite delle informazioni potenzialmente ecco lasciate il via libera in ingresso a malintenzionati che vogliono capire le informazioni oppure un'altra che mi viene in mente di recente sta veicolando tramite SMS arrivano dei messaggi allarmanti della serie mamma aiuto bisogno di aiuto sono in pericolo con un link sul quale cliccare capite bene che se siete genitori avete bambini figli e quant'altro vi preoccupate quindi cliccate questa è una tecnica di ingegneria sociale diciamo abbastanza malvagia ecco come tattica perché fa leva proprio sui rapporti interpersonali delle persone quindi attenzione attenzione a queste a queste tattiche l'ultima cosa vi segnalo che è in arrivo la nuova identità digitale europea che dovrebbe sostituire entro il 2026 lo speed c'è chi è contento c'è chi invece era affezionato allo speed ma ovviamente questa novità fa parte un po' dell'approvazione del nuovo regolamento europeo EIDAS 2.0 che introduce i portafogli digitali europei tramite i quali i cittadini europei potranno avere una sorta di portafoglio esatto il termine corretto dove andare a caricare di tutto qualsiasi informazione clicchiamo sopra la notizia per andare ad approfondire un attimo nel dettaglio questa è una notizia che ho letto dal sito di FederPrivacy quindi loro potranno pubblicare cioè pubblicare salvare su questi portafogli digitali patente di guida qualifiche conto bancario con ovviamente tutta una serie di tutte le privacy che dovranno e di sicurezza aggiungo che dovranno essere implementate qui nell'articolo trovate i vari step entro il 2026 ciascuno stato membro dovrà mettere a disposizione dei cittadini il portafoglio digitale ovviamente non ci sarà discriminazione quindi chi non vorrà utilizzare il portafoglio chi non vorrà ricorrere a questa soluzione potrà in ogni caso farne a meno quindi non ci sarà un'obbligatorietà di utilizzo e poi ci sono altre diciamo come dire suggerimenti altre informazioni di natura tecnica che adesso non sono rilevanti volevo però sottolinearvi una cosa qual è la differenza con lo speed la differenza è qui ve l'ho lasciata nelle note la differenza è proprio la portata il raggio d'azione nel senso che lo speed rimane un qualcosa riferito all'italia ovviamente non posso usare quel tipo di autenticazione altrove per autenticarmi su siti non italiani invece il portafoglio europeo digitale quello sarà valido e riconosciuto in tutta l'Europa e faciliterà in maniera importante tutti i servizi transnazionali migliorando integrazione digitale fra paesi membri e quant'altro quindi questa è una bella notizia leggete l'articolo abbiamo ancora un po' di tempo fino al 2026 ma ci conviene un po' abituarci a queste novità che provengono dall'Europa e che come vi ripeto ormai ogni volta saranno sempre più frequenti sempre più importanti bene anche per oggi è tutto grazie per essere stati qui con me nel nostro consueto appuntamento settimanale noi ci rivediamo la prossima settimana sempre di sabato vi invito a iscrivervi a Gladiatori Digitali per ottenere tutte le fonti e le risorse visionare il forum e seguire sui canali della scuola Omnivis tutti gli aggiornamenti sui temi che sono di vostro maggiore interesse grazie mille e buon fine settimana grazie mille